L'impegno primario del cristiano è la sua unione con Cristo. Il lavoro e il riposo, donne di Dio, si devono vivere in serenità. Libero dall'ansia di produrre e dall'avidità di possedere, il cristiano deve condividere i beni con gli altri, deve impegnarsi al rispetto della dignità e dei diritti della persona umana, deve farsi carico di sollecitudini perché la famiglia viva in serenità e armonia. Un breve pensiero, direi anche scherzoso. L'adolescente scriveva i suoi propositi, chino sul tavolo, mentre la mamma stirava la biancheria. Scriveva il piccolino, se vedessi qualcuno in procinto di annegare, mi butterei subito in acqua per soccorrerlo. Se si incendia la casa, salverei i bambini. Durante un terremoto non avrei certo paura di buttarmi tra le macerie pericolanti per salvare qualcuno. Poi dedicherei la mia vita per aiutare tutti i poveri del mondo. La mamma, per piacere, va a prendere un po' di pane qui sotto. Mamma, non vedi che piove? Quante vorrei nella vita spirituale. Una bambina di dodici anni ha scritto. Siamo noi gli uomini del futuro. Tocca a noi migliorare la situazione. La cosa più grave è star lì a far niente, a guardare questo povero mondo che si sbriciola. Noi diciamo viva la pace e facciamo la guerra. Abbassa la droga e ne consumiamo il commercio. Basta col terrorismo e uccidiamo i giusti. Però non è detto che a ciò non si possa mettere fine. Io volevo dire questo. Se sei triste per l'odio nel mondo, non piangere e non perdere la speranza, ma fa qualcosa anche da piccolo. E qui possiamo presentare alcune domande che io non voglio la risposta, ma la risposta ognuno se la tenga come riflessione. Come vengono vissuti nel nostro ambiente il lavoro e il riposo? Come dare testimonianza cristiana di fronte al problema della disoccupazione dello sciopero? Possiamo collaborare alla difesa della natura? Sull'esempio di Maria Santissima, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, siamo invitati a lavorare senza divenire schiave del lavoro e a creare un ambiente familiare e sociale ricco di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di manzuetudine e di pazienza. La disumana ricchezza è idolatria e impedisce di aiutare il prossimo, chiude nell'egoismo, guarda i vantaggi immediati e non alla vita futura. La vita economica del cristiano si concretizza in vari modi, condivisione dei beni, solidarietà sociale, attenzione alle esigenze della famiglia. Diamo uno sguardo un poco a quello che ci suggerisce la vita di Francesco, o meglio vediamo prima quella di padre Pio. Padre Pio ha conosciuto le sollecitudini familiari che nutrivano nell'ambito della fraternità. Il suo lavoro era una ricchezza non sottoposto alla svalutazione della lira o alla promesia dei ladri. Nessuno potrà dire quanti soldi sono passati per le sue mani, ma tutti costatiamo le grandi opere che padre Pio ha realizzato con la ricchezza terrena. Nel contempo conosciamo anche il pensiero del padre circa l'uso del denaro impegnato per fini poco chiari. Quando ci fu lo scandalo Giuffrì e il padre Zecchia gli riferì che si diceva che questo era suo figlio spirituale, padre Pio ha risposto che non l'ho mai conosciuto. Ti ricordi quante volte noi ne abbiamo parlato e abbiamo detto che tale operazione non era una seconda coscienza e non si potevano mai approvare. Da me infatti si presentò una volta un tale che si accusò di aver preso un'operazione di prestito con l'interesse al 40%. Io gli impose di recarsi subito a restituire quanto aveva preso oltre il prescritto dalla legge, morale poi che è ritornata da me per compensarsi.